Argentina-Arabia Saudita, il pronostico gollo predictor si rivela vincente. Il primo risultato a sorpresa di questo mondiale è arrivato, l'Argentina, una delle nazionali favorite per la vittoria finale di Qatar 2022. Ha perso all'esordio contro l'Arabia Saudita. Il match è finito 2-1 in favore della squadra araba dopo che Messi aveva portato in vantaggio la sua nazionale su calcio di rigore. Era davvero impronosticabile come risultato? Non per l'algoritmo del Corriere dello Sport, gollo predictor che aveva dato come consiglio su cosa giocare Under-1. 5 primo tempo e Over-0, 5 secondo tempo, quota 1, 77. Forse l'unico algoritmo ad aver consigliato una giocata giusta su Argentina e Arabia Saudita. Segui predictor gratis su Telegram.